Il mercato Fiori Le notti magiche di Italia 90 restituiscono all'Italia il nuovo bomber mondiale, Salvatore Schillaci. E la Juventus torna ad essere la favorita per la corsa Scudetto, grazie a una campagna acquisti stellare. Nell'otto delle contendenti alla vittoria finale, oltre alla Juve, c'è il Napoli campione, le due milanesi e la Sampdoria, che prende Branca e il russo Mikhailichenko. I mondiali hanno acceso ulteriormente la fantasia dei tifosi, anche perché nel campionato sbarcano diversi protagonisti di Italia 90. Tutti destinati a lasciare il segno, come il cieco Thomas Scuravi, ingaggiato dal Genoa, il tedesco Ridle, acquistato dalla Lazio, e il talentuoso Francescoli, che mette la sua esperienza a disposizione del neopromosso Cagliari. Penso che c'è molta fiducia in questo Cagliari di poter fare un grande campionato. Si organizzano anche le provinciali, tra cui il Pisa, tornato in A, e il Lecce, che affida la panchina all'esordiente Zibi Boniek. Il Bologna fa sognare i suoi tifosi con l'ingaggio dell'ungherese De Tari, pallino dell'avvocato Agnelli, mentre suscita curiosità la matricola Parma. Non deixa passare il gol. Non deve segnare, non deve passare il gol. Non deve passare. Tante, dunque, le manovre in vista della ripresa della corsa Scudetto, la cui partenza è fissata per domenica 9 settembre, con una novità regolamentare di grande impatto. Il fallo da ultimo uomo viene punito con il rosso diretto. Non manca molto la tanto attesa ripartenza del campionato. Prima del via, però, c'è un appuntamento molto importante, quale è la Supercoppa, il primo di settembre, quindi speriamo che... Contro la Juventus, dono. Contro la Juventus. Vinta dal Napoli per 5 a 1, lascia parecchi interrogativi sulla tenuta della difesa di Maifredi. Baggio, vogliamo mandare un messaggio a Maradona. Di Baggio. Non ha bisogno di messaggi. Ha vinto anche stasera e i complimenti sono tutti per lui. La Sampdoria di Boscov è ormai una macchina quasi perfetta negli automatismi sotto rete di Viale e Mancini, nelle chiusure di Vierkovov, nelle geometrie di Catanez e nell'esperienza di Sereso. Questo può essere davvero il suo anno. La Juventus cede al fascino del calcio champagne di Maifredi, ma l'operazione non dà i frutti sperati, nonostante l'arrivo di Baggio, che con Schillaci e Casiraghi forma l'attacco della Nazionale. Il Milan del trio olandese è sempre temibile, anche se il rapporto tra Arrigo Sacchi e i suoi comincia a incrinarsi, così come all'Inter di Trapattoni, che vanta sempre un organico di primordine. Il trio tedesco e poi Berti e Serena danno certezza di un campionato da protagonisti. La Roma di Bianchi, solida, solida in ogni reparto con l'asse Aldair Giannini-Föller, può fare molto bene, ma molto presto viene frenata dal caso Lipopil, dalle squalifiche di un anno per Peruzzi e Carnevale. Nel Napoli di un Maradona sempre più bizzoso si mette in mostra un certo Gianfranco Zola e lui la nota più positiva di una stagione che sarà assegnata dalla squalifica di 15 mesi per doping di Maradona che scapperà di notte dall'Italia a siglare amaramente una storia bellissima. Tra le novità, la matricola Parma, che Nevio Scala fa giocare con una zona spettacolare ed efficace. Con un portiere brasiliano, Taffareul, con un nuvolo di giovani di belle speranze come Melli e Brolin e vecchi volponi come Cuoghi, costruisce un piccolo gioiello. Il primo se li porta a casa, lasciate. Il pool sportivo, in collaborazione col GR1, presenta tutto il calcio minuto per minuto. Paolo Carbone in linea, buon pomeriggio a tutti i gentili ascoltatori. Richiamiamo allora i risultati dei primi tempi. Intanto Atalanta 0, Bari 0, Bologna 0, Pisa 1, Cagnali 0, Inter 0, Lecce 0, Napoli 0, Milan 0, Genoa 0, Parma 0, Juventus 1, Roma 2, Fiorentina 0, Sampdoria e Cesena, Torino e Lazio, altri due 0 a 0. E tutta una teoria di 0 a 0. I secondi tempi stanno per cominciare, io credo, o linea a De Luca, o linea ad Ameri, perché tanto stanno per cominciare. E allora, Enrico Ameri in linea. Sì, le fare sono state in campo, allo più in questo momento, il primo tempo c'è un cruzo con un risultato di parità, 0 a 0. Scusa Ameri, è Bergamo, scusa Ameri, è Bergamo che interviene per segnalare il vantaggio dell'Atalanta, esattamente al terzo minuto del secondo tempo, con Canigia, Atalanta 1, Bari 0, a te la linea. Benissimo, stiamo al terzo minuto, 0 a 0, a linea a sop. Attenzione, attenzione, intervengo da Marassi, quarto minuto del secondo tempo, Sampdoria in vantaggio, gol di Invernizzi. Sampdoria 1, Cesena 0, a te la linea. Siamo giunti al settimo minuto, ancora 0 a 0, tra Torino e Lazio, linea a Provenzali. A Parma, non è cambiato il risultato, è sempre con la Juve, in vantaggio per una rete a 0. A Cagliari siamo già all'ottavo minuto, sempre 0 a 0, tra Cagliari e Internazionale. La linea a Milano. Nono minuto anche a Milano, ancora 0 a 0, la partita sta ricalcando il tema tattico del primo tempo. Siamo a fare... Un saforma, è Bergamo che interviene perché l'Atalanta sta usufruendo di un calcio di rigore, batte Evair sul pallone e schiaffa completamente Drago. Dunque Atalanta 2, Bari 0, all'undicesimo minuto, a te la linea. Attenzione, l'Inter in vantaggio a Cagliari, ha segnato Klinsmann esattamente il quattordicesimo minuto, a te la linea. Calcio di rigore in favore della Roma, siamo al sedicesimo, Carnevale è pronto alla ricorsa, parte adesso Carnevale, la conclusione, la palla in rete del 3 a 0 della Roma sulla Fiorentina per la linea a Meri. Ecco intanto che termina da terra un altro giocatore della Lecce, gioco ferma e linea a Cogli. Attenzione Cogli, ti interrompo per un istante perché c'è un calcio di rigore in favore della Juventus per Baggio, Baggio è un giocatore che ha subito il fallo che si è portato alla battuta, il tiro, la palla è in rete, il risultato Juve 2, Parma 0 a terra linea. Attenzione, è l'Olimpico che interviene ancora, quarto gol per la Roma ad opera di Carnevale, siamo esattamente al diciannovesimo, Roma 4, Fiorentina 0 per la linea. Nel frattempo Lentini cerca di rinviare Max, attenzione, raddoppio dell'Inter ancora con Klisman e quindi siamo al 2 a 0 per l'Inter nazionale, ventesimo minuto a Tecciotti. Attenzione Milano che deve intervenire il ventiseiesimo della ripresa, gol del Milan, Donadoni che ha toccato al centro è entrato di sinistro Agostini ed ha messo la palla in rete. Milan 1, Genova 0, linea che deve parlare. Terzo gol dell'Inter, contropiede, assicurata questa vittoria in pratica dal gol, dal terzo gol di Klisman. C'è un calcio di rigore in favore del Parma ed ecco che parte il tiro del gol del Parma, gol segnato da Mendy, Juve 2, Parma 1 a te la linea. Benissimo, è finita, tutto il terreno dello stadio del mare di Lecce, è finita con uno 0 a 0 e stessa rimane dai napoletani. Scusa, finale 3 a 0 per l'Inter. Finale anche all'Olimpico, Roma batte Fiorentina 4 a 0. Quelli che hanno vinto due punti, vedete, poi quelli che hanno pareggiato un punto e poi le altre, le perdenti, 0. Cari telespettatori, buonasera e benvenuti nel ventunesimo anno di novantesimo minuto. Il campionato parte subito nel segno delle favorite, ma già la seconda giornata affiorano le prime sorprese. La Juventus pareggia in casa con l'Atalanta nonostante Maifredi schieri il tridente con Baggio, Schillaci e Casiraghi. Non fa meglio la Sampedoria, priva di vialli infortunato che chiude sullo 0 a 0 la trasferta di Firenze. Quando ti aspettiamo, ti aspettiamo sai che c'è molta gente che vuole ancora bene, eh? Sì, sì, lo so, me ne sono reso conto in questo periodo qua. Ti fa molto piacere. Sì, sì, molto. La frenata di Juve Samp lascia via libera Inter Milan che vincono soffrendo. Inter e Milan hanno vinto al novantesimo, quasi al novantesimo tutte e due. Per i nerazzurri impegnati in casa con il Bologna di scoglio segna Alessandro Bianchi. Io so che sulla carta teoricamente l'Inter appartiene a un'altra categoria, quindi la Ferrari, non ho detto la McLaren, non ho detto la Ferrari e per quanto riguarda noi ho detto una 127 messa a punto. Di Van Basten invece la rete vittoria per i rossoneri corsari a Cesena. Adesso non parliamo di Scudetto, è un campionato lunghissimo, però mi è piaciuto il carattere di questa squadra, abbiamo vinto il novantesimo o il novantunesimo ma proprio perché l'abbiamo cercato in tutti i modi. Ma la vera sorpresa è il Pisa allenato dal rumeno Mirce Alucescu. La matricola di Anconetani scommette sul giovane argentino Diego Pablo Simeone. Ed ecco dunque il 2-0, una prudezza dell'argentino Simeone. Il Pisa fa bottino pieno nelle prime due giornate. Lamberto Piovanelli centra avanti Nerazzurro segna tre gol ed è il primo vero boom della stagione. Questa evoluzione da un Piovanelli che sbagliava tanti gol due anni fa in Serie A a questo Piovanelli che invece azzecca tutto adesso, anche in fase di rifinitura, di costruzione. Ma forse mi hanno fatto bene i fischi che ricevevo due anni fa. Non finiscono qui i colpi di scena per un torneo che si preannuncia caldissimo. Il Napoli penultimo in classifica con un punto, non succedeva da molte stagioni, il Napoli aveva sempre cominciato forte ultimamente. Maradona entra ed esce dalla squadra e Bigon non nasconde la sua preoccupazione. Clamorosa è la sconfitta casalinga contro il Cagliari del debuttante Claudio Ranieri così come la seconda caduta a Parma per mano di Osio. Ritorneremo al più presto possibile a essere il Napoli forte di sempre. Non è grave, non è crisi. Alla terza giornata spicca invece il Torino che nel nuovo stadio delle Alpi sconfigge meritatamente l'Inter. È di nuovo in A la formazione guidata da Mondonico dopo una sola stagione tra i cadetti. Cuore e grinta non mancano grazie anche ai nuovi acquisti tra cui Pasquale Bruno, Luca Fusi ed Enrico Annoni. In più c'è un pizzico di genio e di fantasia riposto in Gianluigi Lentini nuovo idolo della maratona che attende l'arrivo della formazione Nerazzurra per dare un saggio delle sue capacità. Lentini è un gol d'autore? Sì, devo dire di aver fatto un bellissimo gol e sono molto contento. a 21 anni Gianluigi Lentini quando scende in campo contro l'Inter il 23 settembre 1990. Tra Torino e Inter è stata una partita ad handicap. Ottimi Marchegiani, Baggio e Polichiano in difesa, Fusi e Martin Vaskes a centrocampo e Lentini in attacco. All'esuberanza di un ragazzo che corre come un cavallo su e giù lungo la fascia destra a cercare spazi dove esprimere il suo talento e la sua irrefrenabile energia. Gioco arioso sulle fasce dove hanno imperversato Scoro e Lentini che rispettivamente al settimo e diciassettesimo hanno mandato in gol Bresciani e Romano. Lo paragonano a illustri predecessori che hanno vestito il numero 7 in Granada ma lui non è un nuovo Sala o un nuovo Meroni è un ragazzo del Filadelfia. La squadra ha cercato di fare del proprio massimo e abbiamo resistito benissimo. Il Torino ha storicamente un'attenzione particolare per i giovani li fa crescere affidando loro grandi responsabilità e ricevendo in cambio fedeltà e passione. Il Toro dimostra di avere dei giovani molto interessanti. Non facciamo nomi Lentini non facciamo nomi perché poi i nomi le fa la storia del calcio i gol. Mondonico lo coccola e lo striglia gli fa capire quanto sia importante lavorare per il gruppo e contemporaneamente lo fa sentire speciale quando avverte che è giusto così. Dunque il Torino quindi in classifica è una squadra che Mondonico ha preso saldamente per mano. Poi cosa si dice nel dispogliato dei giocatori? No niente quando noi abbiamo promesso che faremo e daremo sempre il massimo di quando siamo in grado di fare di dare. Lentini ha alle spalle un esordio in Serie A nel 1986 da minorenne sfrontato a 17 anni. Quattro campionati dopo con due esperienze in cadetteria è già un altro sebbene debba ancora sbocciare. Trascinatore assoluto dei principi dai contropiede Lentini e Bresciani dopo un'ora di gioco per mandare K.O. Mirabili è tutte tinte di granata ed un gol il primo in A che fissa sul 2 a 0 il verdetto di Torino Inter. Lentini è un gol ad autore sono molto contento mi è venuto Battistini contro sono stato fortunato a fargli il tunnel e poi a tu per tu con Zenga sono stato molto freddo. E fa pensare che Lentini non ha paragoni col passato perché troppo importante sembra essere il futuro che sta disegnandosi i tifosi granata di antica data l'hanno paragonato al poeta alcuni addirittura all'indimenticabile Gigi Meroni paragoni pesanti quelli più terra terra per non sbilanciarsi hanno detto che è il donadoni degli anni 90 accidenti come se fosse facile trovare il sostituto naturale di Meroni o di Claudio Sala Gianluigi Lentini uno dei nomi nuovi di questo primissimo scorcio di stagione ma non è il solo nel Pisa accanto a Pio Manelli c'è Michele Padovano alla sua prima stagionina nel Parma suscita buona impressione Melli in gol subito contro la Juve nella Roma Bianchi lancia Angelo Peruzzi mentre Trapattoni punta forte su Pizzi un mancino dalla lucida visione di gioco il piedino sinistro assomiglia a quello di chi? del passato ma io spero di essere ricordato per il sinistro di Pizzi l'avvio è segnato dal Milan che all'inizio detta i ritmi del campionato un Milan che è in testa della classifica mi sembra che non abbia ancora il passo da prima tista in compenza ha ritrovato i suoi due olandesi Pazzagli è il titolare della maglia numero uno mentre per i gol ci pensa ancora una volta Marco Bambasten applaudito anche da Pelè ospite d'onore a San Siro la squadra di Milan c'è 4 o 5 escellenti giocatori chi? Gulli Bambasten Lansellotti che mi piacciono molto risorge Ruth Gullit che torna a segnare dopo 19 mesi è un suo destro a dare il pareggio al San Paolo i rossoneri mantengono la testa della classifica e respingono l'assalto di Inter e Sampdoria seconda una lunghezza abbiamo meritato almeno un pareggio noi non ero felice per me stesso ma per la squadra i nerazzurri convincono contro la Roma e contro il Pisa danno vita ad un vero e proprio festival del gol finisce 6 a 3 ed è Aldo Serena a fare la parte del Leone con una tripletta l'ultimo gol l'ho fatto all'ultima di campionato scorso poi ho fatto gol mondiali ma era un po' di tempo non entusiasma invece il cammino della Sampdoria i blucerchiati pareggiano con il Juve Parma prima di tornare alla vittoria contro l'Atalanta per 4 a 1 con un Marco Branca in grande spolvero segna una doppietta consentendo a Vialli di recuperare la condizione Branca un gol di destro e uno di sinistro alla Vialli sì beh perciò sì perché non ne fa moltissimi di destra moltissimi di distro anche di testa perché è uno dei dei giocatori più forti del mondo la Juventus dà timidi segnali di risveglio grazie soprattutto ai singoli con il Lecce e Paolo Di Canio segnare il gol vittoria mentre Schillaci continua a rimanere a secco ma come mai non riuscite a segnare in casa eh non lo so questo è un problema da discutere insieme insieme col mister dietro alle 4 favorite spicca il bel avvio del Parma Nevio Scala sta ottimamente guidando la formazione giallo-blu debuttante in A i ragazzi in campo hanno dato un'interpretazione perfetta di quello che avevamo previsto di quello che avevamo programmato e quindi il Parma vinto precisamente giocando una partita direi di grande livello gioca un buon calcio applicando uno schema che prevede 5 difensori ma con i due esterni che salgono molto 3 centrocampisti e 2 attaccanti Nelly segna ripetizione e Taffareo si dimostra portiere affidabile e poi alla fine della partita giri di campo defaticanti suscita simpatia la squadra emiliana in un campionato che è costretto a registrare i capricci di Maradona e il caso doping che coinvolge Andrea Carnevale ed Angelo Peruzzi esplode quello che viene ribattezzato il caso Lipopil e i due giocatori vengono squalificati per un anno le sorti del torneo cambiano la settima giornata la Sampdoria fa il colpo grosso a San Siro e con Toninho Sereso confezione il clamoroso sorpasso al Milan Sampdoria dopo moltissimi anni intesa la classifica Boscov finalmente è il suo trionfo vabbè io penso è molto difficile dire il trionfo mio o il trionfo di Mantovani perché io non mi metto dentro di una lira a Mantovani al Dele Alpi Gigi Maifredi torna a vestire i panni del tifoso bianconero ed esulta senza freni alle quattro reti che i suoi ragazzi rifilano all'Inter del trap l'unico rammarico è per Casiraghi che deve operarsi alle spalle e starà fuori per un po' ma cosa hai fatto alla spalla? la solita lussazione bisognerà vedere lunedì non so per adesso abbiamo vinto quella Juve quello l'importante vedete a caldo quando le partite sono così appunto tese così piene di colpi di scena vengono dentro anche concetti di scaramanzia quando questo giocatore è entrato poi l'altra volta andava bene questa volta è andata male è proprio il mondo del calcio sono spaccati rapidissimi del mondo del calcio che noi cerchiamo di presentarvi poco dopo un'ora circa dopo la fine delle partite il campionato italiano però tra l'ottava e la nona giornata viene scosso da una notizia terribile amici sportivi buonasera da questo studio per 20 anni Paolo Valenti ha presentato puntualmente novantesimo minuto la sua trasmissione inviato RAI ai principali eventi sportivi Paolo Valenti nel 1970 inventa insieme a Maurizio Barenson e Remo Pascucci novantesimo minuto dunque una settimana di polemiche di discorsi di 0 a 2 a tavolino di discussioni su palloni che sono entrate non in rete poi finalmente arriva la domenica ecco la domenica che è quasi una liberazione un sollievo dopo tante discussioni e da quel momento la domenica diventa l'appuntamento irrinunciabile con i gol e i suoi commentatori volutamente naif da Ascoli ho concluso a te Paolo linea a Paolo Valenti linea a Paolo Valenti linea a Paolo Valenti prende forma il volto umano del giornalismo Baggio sarebbe già della Juventus ho concluso da Torino Castellotti senti io appunto so che siamo nella tua era e sei bravissimo solo ho nominato Barletti per un lapsus questo per la precisione la gente dice quello neanche sa chi c'è a Torino Paolo Valenti è stato il nonno lo zio o il papà di tanti appassionati è il mondo del calcio sono spaccati rapidissimi del mondo del calcio che noi cerchiamo di presentarvi poco dopo un'ora circa dopo la fine delle partite finita la partita si scappava via dallo stadio per correre a casa e vedere il novantesimo minuto naturalmente assembliamo tutto rapidamente a un'ora dalla fine delle partite e naturalmente via via che ci arrivano i pezzi ve li mandiamo in onda abbiate un po' di compiacenza aiutateci con la vostra fantasia a ordinario dai Paolo facci vedere i gol l'abbiamo detto tutti e subito dopo partiva il teatrino con gli interventi di Necco Giannini Carino un tipo di conduzione fortemente evoluta da Valenti per sdrammatizzare le vicende del mondo del calcio per una volta è vero la traviata a Milano dalla scala ha chiamato e Napoli ha risposto per il mio amico Necco da questa sera avrà dei problemini a fare il solito gesto con il quale era solito salutare Milano a te Paolo Valenti quanto sei cattivo Gianni non facciamo nord e sud tra noi no scherzo naturalmente Paolo Valenti ha presentato la sua trasmissione finché le forze glielo hanno consentito la sorte la sorte mi ha tolto purtroppo la gioia dell'ultima trasmissione voleva salutare coloro che benevolmente lo avevano appoggiato ammirato per venti anni e voleva così innocentemente comunicare la squadra per la quale faceva il tipo e oggi comunicandovelo mi sembra quasi di assolvere un suo desiderio Paolo Valenti era tifoso della Fiorentina se n'è andato il 15 novembre e da quel momento novantesimo minuto non è stato più lo stesso è stato un padre per una generazione di giornalisti e un'icona per le generazioni a venire la figura Panini che non è mai stata stampata ma che tanti conservano comunque nel loro personalissimo album del campionato italiano di calcio arrivederci e a risentirci a domenica prossima il pallone continua a rotolare e il Milan continua a sbandare la sconfitta contro la Samp lascia scorie pericolose nella squadra di Sacchi che perde anche il derby d'andata per 1-0 match winner è Nicola Berti Nicola Berti allora le ragazze si corteggiano no non ce l'hanno con te assolutamente ce l'hanno ce l'hanno con me mi stanno facendo di quegli sguardi minacciosi ma forse perché sono milanista e direi proprio di sì i nerazzurri proseguono la striscia positiva con il Napoli Matteus fa meglio di Maradona e l'Inter raggiunge in testa la Sampdoria beffata nel derby nonostante un Vialli tornato in gran forma una partita non strana una partita che il Genova vinto in maniera inattesa insperata ma assolutamente in maniera regolare e più che onesta il match chiave della stagione i blucerchiati l'hanno giocato la settimana prima al San Paolo un 4-1 firmato dai gemelli del gol Vialli Mancini che sa tanto di passaggio del testimone è l'anno della Sambogna si è capovolto qualcosa è cambiato qualcosa in questa squadra un po' di fortuna in più rispetto agli anni scorsi e anche un po' di convinzione in più dietro Inter e Sampd c'è solitaria la Juventus un rigore segnato da Baggio e uno parato da Tacconi sono sufficienti per ottenere la vittoria su un Bologna ultimo in classifica e che da un paio di domeniche ha in panchina Gigi Radice al posto di scoglio poi arriva la goleada sulla Roma con Schillaci che realizza addirittura una tripletta quindi l'incredibile sconfitta per 2-0 contro il Bari di Salvemini una provinciale di lusso che ha in Joao Paolo un attaccante pericoloso e prolifico Gettano Salvemini è il primo allenatore che riesce a battere la Juventus complimenti ma come si fa? Beh applicarsi e con tanta umiltà come l'abbiamo fatto oggi nessuna delle squadre di vertice dunque sembra in grado di prendere il sopravvento l'Inter non ingrana dovere alterna valanghe di gol a pareggi che lasciano l'amaro in bocca ai tifosi nerazzurri e quando poi perde lo scontro diretto con la Sampedoria scoppiano le polemiche un Inter che ha detto di essere squadra in rango perché su una luna non si è accontentata una Sampedoria che adesso può sperare e puntare tranquillamente allo Scudetto Il Milan seppure distratto dagli impegni internazionali non perde di vista lo Scudetto la conferma sia nella sfida contro la Juve affondata dalla coppia Ancelotti-Gullit Certi gol non si segnano soltanto in tv Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare ha detto Belushi e Ancelotti oggi era un duro che ha giocato meravigliosamente bene Io ho giocato bene ma credo tutta la squadra soprattutto nel secondo tempo ha fatto cose eccezionali La Sampedoria è la formazione che meglio delle altre chiude il 1990 C'è un segreto insomma sia sincero verità verità come dice lei Verità con Michele Cenco con giocatori maturati come Mancini abbiamo visto come ha giocato oggi con un Ideali con una grinta incredibile con un Catanese che corre molto con un Dossena che sta in splendida forma non parlo di Lombardo perché quando prende palla tutta la tutta pubblica si alza perché lui porta un fuoco con la palla poi noi abbiamo questa nostra difesa quasi sempre completa e così si arriva la prima domenica di calcio del 1991 in programma il 6 gennaio il calendario prevede la quindicesima giornata turno estremamente interessante con la Sampedoria che se la vede in casa con il Torino di Mondolico l'Inter ospita il Genoa di Bagnoli mentre il Milan va a far visita a un Bologna che ha un disperato bisogno di punti la Juve infine riceve la visita del Napoli che dovrebbe presentare anche Maradona di ritorno dalle lunghe vacanze natalizie sei sempre stato un signore fermati un attimo io continuo a essere signore però non parlo non parlo non dice nulla la sua partita grazie buon pomeriggio possiamo riprendere il nostro giro da linea da Meri con i colpi di tempo sì il secondo tempo è cominciato da circa 32 secondi è in attacco la Sampedoria che cerca di organizzare per quel gioco offensivo partendo da Romero del quartico due primi 49 secondi di gioco nel corso del primo tempo con linea top grazie a Meri siamo abbondantemente in anticipo rispetto al tuo campo si gioca a San Siro il sesto minuto della ripresa è invariata la situazione con l'Inter è sempre vattaggio per una zero grazie alla rete messa a segno il suo ricordo a Matteus al sedicesimo sempre 1-1 tra Bologna e Milan Clisman è solo davanti a Braglia potrebbe andare al tiro gol all'ottavo minuto a San Siro 2-0 per l'Inter a Tafoglianese qui a Bologna confermo la situazione 1-1 al settimo minuto tra Bologna e Milan la linea Torino qui a Torino siamo al quinto minuto 40 secondi nella ripresa punteggio di 0-0 fra Juventus e Napoli direi un giro piuttosto agile da parte di tutti la linea Genova sì 24 minuti di gioco nel secondo tempo dobbiamo dire che la Sampedoria sta attaccando ripetiamo a proposito di Genova e Genova ha ridotto la distanza con Eranio e pretanto mentre si gioca il 26esimo a San Siro la situazione è adesso la seguente Inter 2-1 a Terrico in questo preciso istante la Juventus dopo lungo assedio è pervenuta al vantaggio con il giocatore nuovo entrato Casiraghi Juventus 1-0 Napoli 0 al 41esimo linea Parma attenzione seconda rete del Torino il Torino è passato per la seconda volta e grazie ancora ad un gol di Bresciani 42esimo e 45 secondi il Torino conduce sull'assendore per due reti a zero scusa Enrico ti do intanto il finale di Milano l'Inter ha superato il Genova per 2-1 a zero linea calcio di rigore Bertano su Branca concessi chiedo scusa Meri il finale di Bologna Bologna 1-1 sa chi vincerà lo scudetto? ma io glielo auguro io sono un vecchio milanista perciò ho dei ricordi magnifici in quella società si appresta a battere questo calcio di rigore di Arli la sua rincorsa il suo tiro e rete sulla sinistra da reti difesa dalle portiere Tancredi mischia in aria dentro la rete addirittura l'episodio riguarda il tentativo di recupero immediato del pallone da parte di Viali nella rete finito nella rete dopo il rigore e l'opposizione che Benedetti ha portato che cercava di non fargli prendere il pallone da lì è andata la scintilla mi sembra che i giocatori abbiano interpretato questa partita come si doveva e alla fine giustamente abbiamo vinto vediamo in questo momento Paniuca corre verso il direttore di gara lo strattona per un braccio e poi esce dal terreno di gioco la partita gentili ascoltatori finisce con il punteggio di 2 a 1 in favore della formazione Granata ho fatto una grande corsa dall'arbitro gli ho dato la mano con molta forza e gli ho detto complimenti basta beh quando la palla non entra soprattutto se schiacci l'avversario nella propria area e non riesci a fare gol è chiaro che ti subentrano un po' di nervosismo Inter al comando con 21 punti Juventus 20 Sampdoria e Milan 19 Parma 18 Torino 16 Glenn 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 Sono questi i fatti più importanti della domenica fatti che hanno rivoluzionato la classifica portando l'Inter al vertice e consegnando momentaneamente alla Juventus il ruolo di inseguitrice Il campionato in testa è equilibrato e si alternano le squadre che guidano la classifica Alla sedicesima giornata il Milan approfitta dello stop della Samp a Lecce e balza in vetta davanti a Inter Juventus e Sampdoria finché Gullit non inventa l'Euro gol che manda invisibilio la platea e il no giù Gullit Euro gol un gran tiro Sì era l'unico cosa che potevo fare e anche per fortuna è andata dentro In coda invece la situazione di Bologna Cagliari e Cesena appare già compromessa I romagnoli sono quelli che stanno peggio inevitabile l'esonero di Lippi al suo posto l'accoppiata Lucchi Ceccarelli Noi siamo fiduciosi fino alla fine rendersi in questo momento secondo me non serve a niente Il girone d'andata si chiude con un nuovo colpo di scena l'Inter è campione d'inverno grazie alla caduta del Milan a Parma e al pari della Samp contro la Lazio le statistiche dicono che sette volte su dieci chi vince lo scudetto d'inverno si aggiudica poi anche quello estivo quello che conta quello che vale per tutti noi un'Inter più che mai tedesca dei cinque gol ben quattro portano firma straniera firma tedesca La formazione nerazzurra spinta dai gol spettacolari di Klisman e dal re di vivo Berti comincia così a duettare con la Sampdoria che la raggiunge in detta la diciannovesima giornata i blu cerchiati infatti dopo lo stop con Torino e Lecce inanellano una serie di vittorie entusiasmanti adesso noi dobbiamo sempre pensare come possiamo fare meglio più forte formazione o più pratica formazione per vincere il 23 gennaio nel recupero batte una Roma frastornata che il 18 gennaio ha perso il suo presidentissimo che in 11 anni alla guida della società giallorossa conquistò uno scudetto una coppa UEFA e 5 coppe Italia il tutto con uno stile e una classe inconfondibile eravamo in ascesa tutti lo sapevano saremo ancora in ascesa in futuro si raccoglie quello che si è seminato nel momento triste i tifosi romanisti hanno voluto salutare così per l'ultima volta il presidente del secondo scudetto con striscioni e soprattutto con un minuto di silenzio di grande intensità emotiva concluso con un lungo applauso quando Giannini e Nela hanno deposto un mazzo di fiori in piedi di una presidenza in quel momento lì tu caviamo da Roma non vedere il presidente cosa hai sentito? sono attimi di amarezza di delusione di sconforto e soprattutto poi quando rientravo in campo e quando scendevamo così le scale pensavamo un pochino ai ricordi alle emozioni vissute insieme a questa persona che ripeto a me ma credo a tantissimi i miei compagni ha dato un futuro ha dato tutto quindi siamo riconoscenti di questo domenica 27 gennaio la Sampe prosegue la sua corsa battendo il Cesena fuori casa i 4 punti in 4 giorni rilanciano la classifica ma soprattutto il morale della squadra che vince le successive 4 partite con Fiorentina Bologna Juventus e Parma in primo posto molta responsabilità adesso stare da soli comunque sempre meglio lepre che cacciatore si diceva si no no è già un po' che siamo in testa magari come ho detto già un paio di giorni fa questo è un campionato che penso che si lotterà fino alla fine con 4 squadre che lotteranno per lo squadetto Inter e Sampe sembrano avere impresso il loro marchio al campionato che vede il Milan di Sacchi e la Juve di Maifredi accusare un preoccupante calo i rossoneri perdono secco a Parma poi tornano ad incidere sul campionato con due vittorie travolgenti 3 a 1 alla Lazio ma soprattutto il clamoroso 4 a 1 al Napoli 4 rugidi per il Milan che si riporta un punto dalla coppia di testa il Milan ha fatto soltanto un semplice allenamento anche perché dietro questa squadra quella napoletana ha molti problemi e davanti Maradona è un Maradona a mezzo servizio non so se oggi era infortunato ma comunque è un giocatore che fisicamente ha mostrato dei limiti un giocatore che ha passeggiato mentre gli altri correvano qualche tocco così per la platea ma troppo poco per pensare di poterlo riconfermare il prossimo anno la Juventus non va i bianconeri stanno collezionando partiti in colori per il momento Maifredi rimane al suo posto ma già si mormora di futuri e nuovi ribaltoni per Maifredi per Maifredi per Maifredi bisogna aspettare la fine dell'anno noi gli allenatori li teniamo sempre fino alla fine dell'anno alla fine dell'anno tiriamo le somme e vediamo le è piaciuto Baggio e così il campionato si avvia a disputare la sua ventiquattresima giornata con le quattro di testa che incrociano i loro destini Vincono Inter e Samp i nerazzurri abbattono una Juve in piena crisi mentre la premiata ditta Vialli e Mancini affossa le speranze rossonere con un gol ciascuno Bosco vendovina l'assetto del centrocampo e Vialli e Mancini fanno il resto no io credo che il risultato abbia premiato la prestazione superiore della Samp e non si confondi sono tre adesso i punti di vantaggio della coppia di testa sul Milan la Juve a meno otto insieme al Parma e al Genoa le vere rivelazioni della stagione impressiona anche il cuore del Torino che con il Cesena rimonta grazie a Lentini ad un altro giovane alle prime apparizioni in A Dino Baggio il campionato entra nella sua fase discendente i giochi sono ancora tutti da fare per lo scudetto oltre ai nerazzurri e Sampdoriani sulla carta c'è ancora il Milan che potrebbe inserirsi ma che perde malamente in casa con l'Atalanta guidata da qualche domenica da Bruno Giorni subentrato a Frosio oggi questa vittoria dell'Atalanta rischia di essere oscurata dalla crisi del Milan no sono sempre due punti per noi che fanno bene la nostra classifica nel frattempo in coda Cesena e Bologna appaiono le squadre con maggiori difficoltà noi non abbiamo malumore ma ci mancano otto titolari poi domenica ci fanno un gol con la mano un rigore che non c'è oggi c'è un rigore del 93ismo che non so chi l'ha visto se vogliono mandare giù il Bologna facciano pure non sta molto meglio il Pisa lontanissimo dai fasti di inizio stagione e che da troppe domeniche ha perso per infortunio Lamberto Piovanelli Presidente Pisa nel rispetto dei regolamenti non fa dichiarazioni nessuno dei tesserati chi inizia a sperare invece il Cagliari ben diretto da Renieri che ha in Fonseca un goleador provvidenziale Daniel Fonseca il giaguaro con il simpatico viso da conigliezzo ha rilanciato l'esperanza del Cagliari verso una salvezza peraltro ancora lontana manca il Napoli all'appello lo scudetto è ancora sulle maglie ma ormai quel triangolino colorato è soltanto un elemento cromatico Maradona appare lontano con il cuore colamente dalle sorti della squadra che ti succede Diego? non mi succede niente è solo che sono stanco delle pressioni che ho avuto in questi questi anni e non sono non sono sicuramente fortissimo forte come come mi hanno mi hanno fatto sul giornale adesso che no o come eri prima o come eri prima poche le luci nella deludente annata per la formazione napoletana tra queste la conferma di Gianfranco Zola diciamo che un professionista si deve sempre deve sempre tenersi pronto e deve aspettare l'occasione giusta 17 marzo 1991 Napoli-Bari non è certo un incontro di cartello della 25esima giornata più che un derby del sud è derby per la UEFA le due squadre sono impelagate nel centro della classifica l'unica cosa degna di nota è che i padroni di casa giocano con lo scudetto sul petto è strano vederli così rassegnati all'anonimato di un brutto torneo eh sì questo è forse il problema più grosso la squadra abituata a lottare sempre per il vertice si vede un po' ridimensionata per quanto riguarda gli obiettivi finali a posteriore invece questa domenica rappresenta uno degli snodi determinanti della storia della società partenopea Zola forse la notte più lieta di questo Napoli di questo campionato Zola la Serie A è approdato tardi bravo il Napoli a credere in lui è il caso di credere fermamente in questo Zola ma io penso di sì è un giocatore che è molto preparato ha bisogno di spazi di confermi a partire da Maradona per l'appunto che spesso e volentieri lo ha messo in porta durante gli allenamenti per fargli scoprire i segreti delle traiettorie su punizione o altri trucchi del mestiere c'è stato anche spazio e tempo per qualche finestra quasi un passaggio di consegne tra i due funamboli azzurri suggerimenti del capitano a chi ha tanta voglia di apprendere ed emergere Diego lo apprezza come persona lo prende in giro per la statura più bassa di lui chiamandolo Nano né amico né protettore Maradona dalla gente di Napoli come giusto è ricordato per quel grande campione quel grande calciatore che ha dato tanto questo ci sta in Pisa Napoli poche settimane prima gli ha affidato la maglia numero 10 a modo investitura è un Maradona poco reattivo quello di Napoli Bari eppure è un suo assist a decidere la gara ed è Zola a trasformarlo in gol Maradona che scodella sulla testa di Zola il pallone dell'1 a 0 i due insieme vanno al sorteggio antidoping a fine partita chi sbaglia in questo settore deve essere punito e così è sempre stato e lo è soprattutto da queste nuove modificazioni che la federazione ha introdotto con questi controlli molto rigorosi e tutte le domeniche in tutte le partite di IDB 10 giorni dopo il 27 marzo arriverà la notizia che non ti aspetti le analisi di Maradona risultano positive ci sono tracce di cocaina state cominciando a prendere le misure un Napoli senza Maradona ma noi preferiamo essere un Napoli con Maradona il nuovo campione da venerare ora è Zola Gianfranco Zola piccolo tamburino sardo che indossa con splendida umiltà la maglia numero 10 ha preso per mano la sua squadra suggellando una bella prestazione con il gol su passaggio di De Napoli con la sua aria da ragazzo serio felice come un bambino che ancora non ci crede di poter partecipare al banchetto dei grandi e di riuscire a farlo da protagonista tanto nel campionato italiano quanto più tardi nella Premier League lo ha scritto anche a un settimanale chi nasce piccolo diventa grande considerando che sono in compagnia di Beethoven Napoleone Schubert Mozart Michelangelo Socrate e Maradona beh faccio finta di crederci Mentre Gianfranco Zola diventa il nuovo idolo del San Paolo il campionato vede un primo sprint della Samp che guadagna un punto sull'Inter grazie alla vittoria esterna sul campo del Pisa Roberto Macini è un'orgia di blu cerchiato manca però forse uno stemmino tricolore è banale come domanda manca nove partite ancora quindi è difficile i blu cerchiati hanno adesso 37 punti da qui si parte per la 26esima giornata che vede in calendario il derby della Madunina il Milan viene dalla sconfitta casalinga contro l'Atalanta e i suoi tifosi vogliono la vittoria l'Inter non può perdere la Sampdoria affronta in case il Napoli che presenta la coppia di Folletti Maradona Zola 24 marzo 1991 il torneo potrebbe essere a una svolta io penso per noi adesso le prossime tre partite quando stanno raggiungendo tutte a casa sono molto importanti può essere anche decisive noi dobbiamo lottare con tutta la nostra forza per andare a San Siro con due punti o tre punti in vantaggio il primo se riporta a casa la scelta per lo scelto fino allora abbiamo vissuto un primo tempo davvero entusiasmante con 16 gol segnati è già tempo di ripresa è già tempo di tornare alle nostre cronache dirette e la linea adesso va a Milano a Milano si gioca il primo minuto di questa ripresa la situazione è ancora di 0 a 0 tra Inter e Milan il favorito in derby sono nessuno neanche Milan neanche Inter vogliamo dopo 90 minuti Inter battere Milan 1 a 0 comprimi 47 secondi di gioco nel corso del secondo tempo sempre 2 a 0 per la formazione Sandoriana che in questo momento cerca di prodursi un altro attacco se sono rose fioriranno a Milano si gioca il undicesimo minuto di questa seconda frazione di gioco ancora 0 a 0 la situazione ma la partita nel frattempo si sta scaldando al pinto sugli sviluppi di un angolo da sinistra di Evani Maldini ha fallito una facile correzione a rete al nono sul corto traversione da destra di Gullit Van Basten e Spedivalto un pallone che a nostro avviso sarebbe stato piuttosto facile al dodicesimo a San Siro ancora 0 a 0 tra Inter e Milan Galliani si cosparge il capo di Cenere assistiamo in questa prima parte del secondo tempo a tentativi ripetuti da parte della formazione napoletana di portarsi al gol ma vediamo che la formazione della Sennoria riesce sempre a bloccare le azioni di attacco da parte della formazione del Napoli aumenta nel frattempo l'elenco dei cattivi Gaudenze di stringare a costa curta da Filippo Galli attenzione terzo gol della Sennoria Viali di testa splendida l'uscita di Galli ma splendida ancora l'intervento di Viali che ha portato a tre le reti della formazione sandoriana quando c'è la condizione atletica quando c'è anche la giusta carica psicologica tutto risulta più facile siamo all'interno della tre quarti interista avanza poi Filippo Galli servizio verso Van Basten stop di petto in livellare di rigore parte il destro di Van Basten e Colle Colle veramente esemplare con un tiro di destro di pieno collo che ha mandato la palla nell'angolo basso alla destra di Zenga che va adesso a protestare con Pezzella e probabilmente ci sarà la munizione anche per riportare nell'azzurra e così è infatti 1.001 inter 0 a Tiameri Sandro mi dai la linea proprio mentre stavo per interromperti c'è stato un calcio di rigore che è stato segnato pochi anni fa la formazione del Napoli per l'atteramento di Zola Maratona prende in questo momento la rincorsa parte il tiro ed è rete sulla sinistra della porta di difenza da Pagliuvi 3 a 1 e quindi il punteggio 28 primi e 24 secondi siamo a 7 minuti della conclusione a Milano Milano sempre in vantaggio per una zera a Tiameri attenzione attenzione quarto gol della formazione bucecata è stato Lombardo era molto solo non ha avuto difficoltà a portarsi avanti in zona di tiro a istanza ravvicinata e ha scoccato il suo tiro che è fatto sulla destra di Gara la Sandoria oggi ha tirato fuori quel carattere Sampdoria da solo al comando 39 punti Inter 36 Milan 34 Juventus 31 Genoa 30 oggi Brown Devo dire qualcosa a Vianlli al quale avete regalato lo scudetto o no? Ma spero soltanto che loro lasciano qualche punti per favore nostro ma quando voi vincete questo campionato penso che sia stato anche meritato Una cena per il mio d'accordo Luca quando vincere Ciao La schiacciante vittoria contro il Napoli e la concomitante sconfitta interista fanno salire a tre i punti di distacco tra Sampdoria e Inter ma mancano ancora otto giornate alla fine del campionato A Genova vogliono portare lo scudetto sarebbe un traguardo meritato per una città se lo meritano mi pare che dopo questa non l'hanno mai avuta è l'unica grande città che non l'ha avuta detto questo lo vogliono tutti Inizia così il conta alla rovescia per le due contendenti al titolo La Sampdoria è favorita potendo contare sul vantaggio in classifica ma mostra un preoccupante calo di tensione nella gara interna con il Cagliar che con una doppietta di Fonseca recupera il 2-0 maturato nel primo tempo Beh un punto regalato al Cagliar più gallente L'imprevisto passo falso viene subito sfruttato dall'Inter che travolge il Bari per 5-1 e si porta a meno 2 Non si sa più come guardarlo questo campionato perché nelle domeniche in cui si crede di recuperare i punti non si recuperano e nelle domeniche in cui tutto sembra giocare a favore di una squadra succede tutto il contrario per cui sarà così fino alla fine sicuramente Arrivederci E mentre al vertice la lotta per lo scudetto si fa serrata il campionato vede uscire mestamente di scena Diego Armando Maradona la cui positività la cocaina viene punita con una squalifica di 15 mesi E' l'addio al calcio italiano per il Pibedeoro un addio triste consumato in assoluta clandestinità E' l'addio a tutti Il Napoli reagisce al duro colpo cercando di chiudere nel migliore dei modi un campionato da dimenticare Napoli indecifrabile con tutto il rispetto per Zola incocciati silenzi mancano purtroppo Maradona e Careca Così come da dimenticare appare la stagione di una Juventus in caduta libera Dopo la vittoria in casa con il Bari i bianconeri perdono 1-0 a Firenze e per 2-1 nel derby Uno smacco in più per una squadra che rischia di rimanere fuori dall'Europa Non sono contento di me stesso per cui non mi confermerei però detto questo io penso che nella vita ci sono i momenti buoni i momenti cattivi e soprattutto in questi momenti cattivi che uno deve dimostrare di essere dignitoso e di portare avanti una barca che in questo momento sta facendo un attimino delle falle il Milan invece si risolleva il clima attorno a Sacchi è sempre più ostile con un bambasten apertamente in guerra con il proprio tecnico tuttavia la squadra riesce a fare risultati a porsi sulla scia di Sanpe Inter C'è da dire subito che si sono visti musi molto lunghi all'arrivo del Milan allo stadio San Siro la spiegazione è molto semplice Sacchi ha comunicato ai ragazzi che sarebbe sua intenzione ripeto sarebbe solo perché una decisione definitiva verrà presa a fine campionato lasciare il club e quindi dedicarsi ad altre attività Intanto si avvicina il 5 maggio e la Sanpe sfrutta al massimo la chance offerta dal calendario alla trentesima Doriani vittoriosi per 3-2 in casa contro il Bari mentre l'Inter è fermata sullo 0-0 dalla Fiorentina e dall'arbitro Coppetelli che non vede un gol valido dei Nerazzurri abbiamo un'altra inquadratura dove si vede meglio l'intervento di PIN attenzione guardate il piede d'appoggio sinistro al momento in cui calcia vedete come va molto vicino alla linea di porta e la gamba destra invece è molto tesa dentro un messaggio dal tuo amico Viale e anche al tuo Magacini noi dobbiamo pensare allo sport dopo domani poi alla San Doria ci pensano il 5 maggio tre punti quindi non sono troppo noi la speranza è quella di battere nello scontro diretto e poi di vedere nelle ultime tre partite che cosa succede San Pedoria San Pedoria 45 Inter 42 e Milan 41 il campionato si ferma per una settimana per lasciare via libera la nazionale sono 15 giorni infiniti che dilatano le attese e amplificano le tensioni l'inter sa di giocarsi tutto nello scontro diretto San Siro sarà una bolgia il trap ormai separato in casa non intende però cedere di un millimetro e carica la squadra a dovere stesso atteggiamento per i doriani che intendono chiudere la pratica a scudetto è la prima domenica di maggio sta per andare in scena la giornata numero 31 questo confronto diretto sarà un po' quello che stabilirà poi perché sono ancora delle partite abbastanza delicate sia per noi che per loro dopo confronto diretto qualora dovessimo superarli io credo il campionato si riapra viceversa no il primo si riporta a casa sarà una trasmissione un po' particolare quella di oggi centrata soprattutto su Inter Sampdoria pensi che vada rivisto qualcosa nel secondo tempo soprattutto nei piani dell'attacco dell'Inter ma diventa un po' nervoso la partita ma secondo me se l'Inter continua a spingere così può vincere anche quindi subito andiamo a Milano a sentire da Ameri e Ciotti novità e commenti su questa super partita Inter Sampdoria decisiva per lo scudetto Ameri ecco Stata Cani in questo momento Vialli passaggio verso Dossena anzi Manini Rete Rete Dossena Dossena ha segnato e il calcio effettivamente conferma la sua imprevedibilità la partita più vivace del giorno Genoa Cagliari ridotto Parità Marassi fra Genoa e Cagliari a te la linea Barilecce cosa succede Foglionese succede niente 0 a 0 bene sinteticissimo e noi torniamo ancora per 5 minuti ad Inter Sampdoria attenzione Ameri e Pisa che interviene 25esimo della ripresa Lazio in vantaggio grande calcio di punizione di Sosa di sinistra da 30 metri con palla all'incrocio dei pali Pisa 0 spagnato da Sampdoria nel corso di 45 minuti di gioco è servito alla formazione di Viali proprio in questa occasione ancora Viali che entra in aria si libera di ferri esce il portiere superata ancora Portavoto in rete Viali ha messo a segno il secondo gol Capriola in fondo non sta avvenendo niente di clamoroso dal punto di vista tattico chi attacca piano organico è scontato che si spunga al gioco di rimessa degli avversari tanto più pericoloso quando ad animarlo c'è un soggetto come Viali ciotti un attimo vai pure Nesti 33esimo minuto del secondo tempo 3 a 0 per il Milan cross di carbone un gol splendido segnato da Evani al volo di sinistro quindi Milan 3 Juventus a 0 attenzione il Bari è passato in vantaggio esattamente al 39esimo minuto con Soda Bari 1 Lecce 0 non abbiamo sentito in precedenza Bologna vediamo cosa accade in Bologna Fiorentina è accade che è calato un po' l'interesse a Bologna anche se non è mai stato particolarmente alto significativo il fatto che i portieri in questa ripresa sono rimasti a braccia concerte senza lavoro praticamente siamo ora al 39esimo risultato è fermo sull'1 a 1 a Tela Liga attenzione il pareggio pronto pareggio del Lecce con Pasquilli tiro da fuori su calcio di punizione bomba 41esimo Bari 1 Lecce 1 proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura vince la Sampdoria per due reti a 0 una vittoria molto importante ci hanno colpito contro piede c'era un gol valido almeno detto dalla Moviola nel primo tempo quindi inutile andare a cercare quali erano i motivi per i quali abbiamo perso e allora andiamo ad acquisire gli altri risultati finali Torino Milan a 3 Juventus a 0 a tela linea ho visto che mancano ancora tre partite il Milan ha vinto alla grande a Torino quindi dovremo temere un po' il Milan però speriamo di andare avanti così finale a Genova Genoa e Cagliari 2 a 2 Bari qui si continua a giocare siamo nel quarto minuto di recupero 1 a 1 Pisa siamo al 46esimo si gioca ancora Pisa 0 Lazio 1 classifiche cominciamo con quella di Serie A che vede al comando la Sampdoria con 47 punti 4 in più del Milan che è a 43 Inter 42 punti una partita che non meritavamo assolutamente di di perdere neanche di pareggiare ma di vincere purtroppo il calcio è questo l'hanno fortunato della Sampdoria e beati loro che vincevano Scudetto ma come si dice Scudetto Jugoslavo? Jugoslavo è molto difficile per voi italiani pervenzvo perché voi non potete dire pervenzvo ecco scudetto non è facile in Genovese in Genovese si dice uguale Scudetto a Scudetto va bene però come possiamo non possiamo festeggiare solo questa grande vittoria e basta poi dobbiamo stare vinta dentro il Milan è così una esce altra entra è sempre così il campionato svolta il netto successo della Samp lancia i blu cerchiati verso la conquista del loro primo Scudetto la matematica ancora non c'è ma nella sostanza non cambia molto importante i giocatori devono essere concentrati molto concentrati devono sapere solo con vittoria possiamo fare un grande successo lo Scudetto lo Scudetto non c'è mai pensato di perderlo come possiamo prendere la squadra la trentunesima giornata saluta il Bologna ultimo in classifica che retrocede in B per ricostruire una squadra subito forte ad altissimo livello per raggiungere non dico tranquillamente però per risalire in Serie A lo segue il Cesena la domenica successiva mentre Fonseca viene portato in trionfo dopo aver realizzato la doppietta decisiva per la salvezza del Cagliari il tuo futuro è rosso e blu sì senza altro penso che sì sto aspettando il procuratore che arriva questa settimana l'Inter intanto prende tre schiaffi dal Genoa e affonda meno sei dalla Samp Doria penso che oggi viene disputato una gara perfetta secondo adesso è il Milan e che trova anche il tempo di rifilare sei reti al vero elitto Bologna noi abbiamo credo un 1% ma dobbiamo inseguire questa utopia dobbiamo seguire per la nostra serietà professionale dobbiamo seguire per la riconoscenza verso un pubblico straordinario come questo il Milanese la Fondoria ha meritato ma chi vince merita sempre 19 maggio 1991 è il grande giorno domenica potrei ballare tranquillamente domenica sera speriamo speriamo sì la Samp Doria riceve il Lecce con la vittoria allo scudetto assicurato con una giornata d'anticipo Serezo Mannini e Vialli firmano il 3 a 0 e Marassi al novantesimo esplode ma un cigno come te crede alle emozioni forti del caldo ma io non credo in Dio ma adesso credo nella Samp Doria e questa l'equazione ecco guarda la fine che abbiamo fatto lì già metto ai fumoni guarda non abbiamo più l'età per questo no non abbiamo più l'età da fumoni il campionato trova il suo padrone per un epilogo che rende giustizia alla formazione che ha mostrato il calcio migliore sai quanto me la pagano queste immagini eh eh gli alli quasi nudo per uno scudetto ne valeva la pena no? ne valeva la pena? sì senti nel momento della tua scelta più importante quando hai deciso di rimanere qua ci credevi? io sapevo che sarebbe stato difficile vincere però i presupposti erano quelli buoni e adesso che abbiamo vinto è un coronamento un lavoro è dei sacrifici notevoli a rispetto di quelli che dicevano che per noi qua era tutto semplice tutto bello e tutto facile chiedono due scudetti storici hai vinto ma questo com'è? bello ma penso è stato bello anche il primo ma questo è molto più bello perché è arrivato dopo anni di sofferenze Gianluca com'è lo scudetto? eh? com'è lo scudetto? è stupendo Gianluca una parola Gianluca una parola basta bello è quello che è lo scudetto ti ricordi quando mi dicevi che non sapevi come era fatto? adesso lo sai adesso lo provo ad alzare è la soddisfazione è grandissima felicità cos'è? uno scudetto e poi? è tutto questo Roberto quanto vale oggi? eh vale per tutte queste è la prima volta quindi non so mi sembra una cosa quasi impossibile finalmente mi sono tolto questo rotto che avevo qua finalmente i campioni siamo noi possiamo dire oggi l'abbiamo meritato perché tutta la stazione l'abbiamo sofferto cosa di più bravo in marco del campionato comunque è una gioia incredibile ho capito per l'uomo che ha costruito questa questa magica squadra che è Bantolani lo dedico a lui 3 a 0 è troppo al primo tempo inaspettato così grande vantaggio niente niente da dire da parte mia grazie grazie a te l'abbiamo sofferto l'abbiamo sofferto l'abbiamo sofferto al massimo voleva dare il loro meglio rimane un solo risultato da attendere per domenica 26 maggio quello di Genoa Juventus vero e proprio spareggio per la qualificazione alla Coppa UEFA per la Juventus rimanere fuori dalle coppe avrebbe il significato di un fallimento totale per il Genoa si tratta dell'ultimo sforzo prima di toccare il cielo con un dito forse nessun'altra città come Genova riesce a esprimere immagini così fedeli alla propria natura come quelle del derby una battaglia di colori e di striscioni che sfoga umori schietti e contradditori ma che si ricompone nell'ironia il derby a Genova dura tutto l'anno favorito in derby e sempre perde il derby tutti pensavano che il Sampdoria è favorito ma in derby non esiste favorito il derby è una partita strana e mai come nel campionato 1990-91 perché la Sampdoria è in testa alla classifica e per l'altra sponda quella rosso-blu la circostanza è un boccone amaro da digerire il Calimiero direi ha battuto il drago è pur vero però che il glorioso Genoa Cricket and Football Club dopo i fasti di inizio secolo con nove scudetti conquistati tra il 1898 e il 1924 da anni Vivacchia diviso tra i bassi fondi della Serie A e i campionati di B da protagonista pagerei pagerei la vita per poter far vincere una bella partita di quei tempi al Genoa il Genoa è una delle squadre che ha vinto il maggior numero di campionati cadetti e proprio due stagioni prima è tornata nel massimo campionato con il professor Scoglio in panchina all'inizio di stagione alleggiava ancora il fantasma di Scoglio su Marassi ora la guida tecnica è affidata ad Osvaldo Bagnoli il mago della Bovisa che ha già realizzato il miracolo Verona Bagnoli anche all'ombra della lanterna si conferma allenatore serio e capace mentre esplode Stefano Eranio Genovese con i colori del Genoa tatuati sul cuore la Fante Eranio inizia in movimento da Aguilera fa uno sbaron comodo ma bello e coglie l'angolo più lontano per un Genovese crede che sia al massimo poi il primo gol in Serie A per me non mi poteva venire di meglio che nel derby quando ero capitano Luca Signorini insieme a Collovati comanda da parassù alla difesa a centrocampo le geometrie di Bortolazzi e i polmoni di Ruotolo assicurano coperture di partenze e io credo che la forza vera oltre a questi stranieri sia proprio il centrocampo di questo genere per una coppia d'attacco formata da Pato Aguilera e Thomas Curavi e così mentre il torneo si chiude celebrando lo scudetto della Sampdoria il Genoa rimane pure sotto i riflettori Genova continua a vivere il suo momento magico del calcio la Samp inveta la classifica e il Genoa quarto l'ultima giornata manda in scena a Marassi l'imprevedibile spareggio UEFA prima Branco e poi Scuravi liberano il volo del Virfone finisce così con Bagnoli in trionfo per il Genoa che conquista il quarto posto e la UEFA e consente a Genoa di essere l'unica città con due squadre in Europa Marassi è una bolgia festante e Bagnoli viene portato in trionfo se l'aspettava questo Genoa direi che la chiusura di una chiusura di una nata direi stupenda il Genoa dopo tanti anni difficili ha rialzato la testa e con la qualificazione UEFA si prepara a diffondere anche in Europa il credo di Bagnoli che ha sempre puntato su un calcio fatto di cose semplici ma fatte bene da adesso comincia il difficile sapevo che Genova era una piazza calda ma non pensavo così i tifosi hanno cercato di dimostrarmelo tutti i giorni dell'anno buonasera amici miei dell'avventura e benvenuti a questo numero 1904 della domenica sportiva il campionato si è concluso concedendo un posto in Europa a Genova Parma e Torino e negandolo invece alla Juve una stagione nel segno di Genova lo stupendo ed emozionante scudetto vinto dalla Sampdoria di Bosco e la stagione esaltante del Genoa di Bagnoli due squadre costruite per divertire ma capace anche di vincere con la grinta e la semplicità delle provinciali due storie che avrebbe narrato sicuramente con piacere Paolo Valenti la voce carbata del calcio capace come pochi di segnare un'epoca un addio commosso come quello tributato dei tifosi giallorossi a Dino Viola esempio di stile che resterà per sempre il presidentissimo della Roma la stagione post mondiale regala anche una serie di gesti tecnici e sportivi rari i gol da cineteca di Mancini e Baggio o Gullit autori di grandi gol ma anche di grandi gesti come quando consola Brambati per l'autogol fra i gesti da libro cuore su tutti quello di Vialli che salva la vita a Morello il difensore leccese sviene e il bomber blu cerchiato è il primo a intervenire per evitare che soffochi rimedia un taglio al dito Vialli ma anche la gratitudine a vita del giocatore leccese un campionato fatto di golea dei gol spettacolari ma segnato anche dalle prestazioni di due estremi difensori Zenga ancora una volta è premiato come miglior portiere del mondo mentre Pagliuca regala numeri per tutta la stagione dalle parate spettacolari contro la Juve al rigore neutralizzato a Matteus passando per il palo centrato con un colpo di testa in un'estemporanea proiezione in attacco la stagione si chiude ancora nel segno della Samp prima i blu cerchiati lasciano Nudo Vialli in campo e poi festeggiano lo scudetto tingendosi i capelli di biondo felicità allo stato puro il calcio allegria di Vialli e Mancini la signorilità di Dino Viola e l'umanità di Paolo Valenti per questo campionato io ti amo di Dino Viola 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 Grazie a tutti